Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Tanta emozione e grande partecipazione da parte di autorità e di cittadini alla manifestazione celebrativa in occasione del 76esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Questi due beni preziosi, cioè la libertà e la democrazia che noi abbiamo conquistato nel nostro paese con la lotta di resistenza e con la fine della seconda guerra mondiale, con la sconfitta del nazismo, è un bene prezioso che diamo qualche volta per scontato, non è così, va custodito e coltivato. Inculcare nei giovani questi sentimenti che sembrano un po' offuscati. Appuntamenti come questo servono sempre? Servono sempre, queste cerimonie non manchiamo mai. L'evento, al monumento ai caduti al passetto di Ancona, è cominciato con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera con inno nazionale. Successivamente il toccante momento dedicato alla deposizione delle corone, a cui ha fatto seguito la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica con i saluti dell'autorità. La manifestazione celebrativa ha quindi dato spazio al dispiegamento della bandiera tricolore, per poi procedere con la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e medaglie d'onore ai familiari di cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti. È importante ricordare il valore della nostra Repubblica, i valori contenuti nella Costituzione e è importante vedere tutte le parti dello Stato che si uniscono a celebrare questa giornata. È un segno che non guarda solo la memoria, ma guarda soprattutto il futuro, in momenti particolari come questi in particolar modo. Ha un grande significato, veramente ideale, che in questo momento è ancora più importante. Il messaggio che vorrei lasciare a tutti è partecipiamo in modo consapevole alla vita della nostra nazione, partendo anche da questi momenti, perché questo può darci un futuro diverso. Ad accompagnare le varie fasi, la fanfara dell'Accademia Navale di Livorno.